Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo E' arrivato il momento di parlare della Colombia Perché? Perché non solo è in semifinale di Copa America, giocherà contro l'Uruguay Trovo che le semifinali di Copa America siano forse anche più interessanti di quelle dell'Europeo Non solo perché è una semifinalista, ripeto, ma anche perché innanzitutto è imbattuta Ha un record di imbattibilità che va avanti da 27 partite, circa due anni Ed è incredibile se pensate che i colombiani non si erano qualificati per l'ultima Coppa del mondo Sì, lo so, neanche noi, però il loro ritorno è stato più incredibile del nostro, direi Come ho già detto, non me l'aspettavo per niente E oggi parliamo della Colombia, abbiamo un po' la squadra, chi sono i protagonisti di questa Colombia E alla fine parliamo dell'allenatore, di Nestor Lorenzo Perché ho qualche aneddoto molto carino, molto curioso Quindi iniziamo subito Allora, dopo anni di differenza per i tifosi colombiani Perché comunque la Colombia è rimasta un po' all'ombra delle grandi nazionali sudamericane Argentina, Uruguay, Brasile, eccetera Un po' nell'ombra Finalmente i tifosi possono godersi la loro nazionale Hanno mostrato davvero un gioco fluido, veloce Tutti i giocatori hanno molta fiducia e molta sicurezza in loro stessi E questo porta anche un po' a spavalderia Ma non intendo nel senso negativo È bello da vedere il gioco della Colombia Vengono da un 5-0 contro il Panama ai quarti E cosa hanno mostrato? Che cosa abbiamo visto? Innanzitutto abbiamo visto un James Rodriguez Che sembra di essere tornati indietro al 2014 Una cosa incredibile Se consideriamo che a livello di club è andato molto incalando Fino ad adesso ad essere al Sao Paolo Ma essere attualmente in vendita Non c'è un giocatore di cui possono benissimo fare a meno 32 anni, quasi 33 4 assist e un gol in questo torneo È uno di quelli che assolutamente si è messo più in mostra Non solo, adesso vediamo gli altri Però è per dire che lui davvero si è presentato a questo torneo Con una mentalità completamente diversa Cioè irriconoscibile A un certo punto quella luce che tutti avevamo visto nel 2014 Si è spenta e da lì una discesa indietroabile Ma adesso siamo tornati indietro nel tempo E quando hanno chiesto all'allenatore Néstor Lorenzo appunto Come mai? Cosa gli sia successo? Che cosa gli avesse fatto? Lui ha risposto che corre di meno e pensa di più Questo ovviamente è possibile perché ci sono altri 10 giocatori Disposti a correre per lui A tal proposito Lorenzo ha detto Il calcio è fatto di 11 giocatori Ma a volte 10 devono correre per un unico giocatore Ora possiamo essere d'accordo come no Però andiamo a vedere chi sono questi altri 10 O comunque chi si è messo un pochino più in mostra Quali sono i pilastri ecco del resto della squadra Del resto di questa Colombia Beh l'altro famoso diciamo così Protagonista anche in Europa Conosciutissimo Luis Dias Esterno del Liverpool Presenza molto importante di fianco poi alla punta Cordoba È instancabile Cioè copre tutta la fascia Copre tutto Cioè appunto la punta Cordoba Come ho detto i due laterali Che sono anche i più I nomi più conosciuti Di cui la gente parla più facilmente Andiamo a vedere chi sono gli eroi Silenziosi anche di questa Colombia Innanzitutto c'è Arias A livello di club gioca al Fluminense Però si sta mettendo molto in mostra durante questo torneo Quindi vedremo poi cosa succederà nel mercato post Copa America È emerso come un giocatore davvero chiave sotto la guida di Lorenzo Gioca come un numero 8 di sinistra molto intelligente Tra l'altro è stata una delle sue corse e delle sue incursioni a portare al primo dei due rigori assegnati alla Colombia contro Panama Sulla sponda opposta Sulla fascia opposta c'è Richard Rios Che invece ha segnato il quarto gol della Colombia contro Panama Con un tiro straordinario Davvero bel gol E fra i due c'è Jefferson Lerma Un giocatore che dovrebbe fare un pochino più di attenzione ai cartellini gialli Era sospeso l'ultima partita Tornerà però per la semifinale contro l'Uruguay Molto importante E l'avevo anche nominato in uno dei video che ho fatto Sull'analisi dei gruppi della Coppa America se non sbaglio Molto importanti anche i terzini E con questo no si un po' conclude il puzzle E si incastrano bene tutti i pezzi Munoz e Mojica Tantissime le loro belle giocate ma di Mojica Mi ricordo per esempio la giocata di Colestano del piede sinistro Dopo essersi spostato sulla fascia destra contro Panama Mentre bello l'assist di Munoz per il gol contro il Brasile Ora però in questa seconda parte del video mi voglio però concentrare sulla figura di Nestor Lorenzo Perché è un allenatore molto umile Molto alla mano Su cui appunto nessuno avrebbe scommesso perché è uno di quegli allenatori che non arrivano già con una nomea importante Però ha una carriera alquanto curiosa Come allenatore ma soprattutto come giocatore Infatti lui ha giocato alla finale della Coppa del Mondo nel 90 con l'Argentina E dopodiché si è unito quindi a 24-25 anni si è unito allo Swindon Town In seconda divisione inglese già qui Per condividere come degli aneddoti che ho letto in un articolo molto molto interessante del The Athletic Che riguardano appunto Nestor Lorenzo e soprattutto soprattutto il suo periodo proprio allo Swindon Town Di cui ha parlato in un po' spartita tra l'altro Adesso in Coppa America Innanzitutto uno dei suoi ex compagni lo ricorda per il modo in cui si legava gli scarpini Ovvero non nel modo convenzionale in cui lo fanno tutti Ma li faceva passare sotto la scarpa e poi tutto attorno alla caviglia Già avevano capito che era un tipo anticonvenzionale Ma ora mettiamo un attimo da parte gli scarpini Nel luglio del 90 come vi ho detto gioca la finale di Coppa del Mondo con l'Argentina Con un certo Maradona per dire Quattro mesi dopo veniva schierato in questa difesa a quattro dello Swindon Town Al County Ground appunto lo stadio dello Swindon Town Lo Swindon non vinceva da otto partite era a diciassettesimo in seconda divisione inglese Lorenzo a quel punto aveva 24 anni apparentemente era l'apice della sua carriera Aveva giocato i giochi olimpici nell'88 con l'Argentina Aveva giocato la mondiale, la finale E aveva giocato l'anno precedente al Bari in Serie A Quindi la domanda è, mi sembra chiara Come c'è finito allo Swindon Town? In quel periodo l'allenatore dello Swindon era Ardiles Che aveva vinto la Coppa del Mondo con l'Argentina nel 78 Quindi quello sembrerebbe spiegare che cosa l'ha tirato Però è stata solo la parte finale Perché in realtà lui è andato in Inghilterra convinto di firmare per il Nottingham Forest Peccato che quando arriva l'allenatore del Nottingham lo porta nel suo ufficio Dice guarda io davvero amerei averti qua Ti vorrei a tutti i costi però prima devo vendere un giocatore Sostanzialmente non si farà Quella trattativa non andrà mai in port Lui molto deluso Néstor Lorenzo molto deluso Perché lui era andato pensando di essere un giocatore del Nottingham A quel punto è un po' una situazione un po' brutta Perché ha il tempo contato Ha già detto di no a delle offerte interessanti che c'erano Dal Paris Saint Germain e dal Valencia E quindi si trova un po' senza club alla fine Quindi cosa succede? Allora intanto ha qualche opzione per tornare a casa In Argentina Ma lui non vuole La più concreta forse è l'Argentinos Junior Dove lui tra l'altro aveva iniziato la carriera Quindi un bel full circle Ma lui non vuole perché insomma c'ha 24 anni, 25 Non è il momento no? Per finire doveva iniziato Non era ancora il momento Voleva giocare in Inghilterra Logicamente lui aveva lasciato l'Italia per andare in Inghilterra A quel punto voleva giocare in Inghilterra E quindi dice che alla fine insomma Scegliere la scelta dello Swindon Anche se in seconda divisione Comunque è stata una gran bella scelta Anche perché comunque dopo anche a livello personale È nata sua figlia lì e tutto quanto Quindi dice che è stato comunque un bellissimo periodo della sua vita Che giocatore era? Era un difensore piuttosto duro, rude I suoi compagni di lui dicono per esempio Era un difensore forte, potente, era naturale per lui essere coraggioso in fase di possesso Perché era un giocatore di livello internazionale Quindi aveva molta fiducia in se stesso, sicurezza Come allenatore gli è rimasta una personalità piuttosto singolare Quando lo inquadra in panchina Allora ha un completo che lo contraddistingue Non mette sempre quello Però molte volte ha un completo nero con una camicia rossa Nella lavagna tattica ha un'immagine della Vergine di Lujan Che è la patrone dell'Argentina E sì, un personaggio piuttosto singolare Però un gran bel allenatore ne è uscito O non so se è stato più Il fatto che lui sia arrivato un po' sottovalutato Perché è uno di quei tipici allenatori Magari bravi, però che non creano l'hype Ecco Però lui è alla guida della Colombia da un bel po' E la gran maggioranza, grandissima maggioranza E quel record di imbattibilità lo devono a lui Quello che mi piace di lui è che è un tipico È una di quelle persone che non importa dove arrivi Ma si ricorda sempre da dove viene O che cosa ha vissuto nel percorso verso l'alto Perché adesso comunque è facile parlare di lui Del suo successo con la Colombia Indipendentemente da come andrà questa semifinale Un gran successo questo torneo Per il calcio espresso Per tantissimi fattori Molti si aspettavano O comunque non si aspettavano Che lui ricordasse quel periodo allo Swindon Così, in modo così limpido E con così tanto affetto Anche riconoscenza Perché comunque molti hanno detto Ha giocato con Maradona Richelme Zanetti Perché dovrebbe ricordarsi dello Swindon E invece, come vi dicevo In uno dei post partita adesso in Copa America Ne ha parlato proprio col sorriso sulle labbra E non solo perché comunque ha detto Che poi ci è tornato anche in visita Perché alla fine appunto sua figlia è nata lì Ma proprio della squadra Un bellissimo ricordo Lui ha spesso un gran bel ricordo dei suoi compagni Ha chiesto per esempio Credo dopo la partita contro il Brasile Ha chiesto che fine aveva fatto Il secondo partire dello Swindon al tempo E gli hanno detto che appunto lavora al Leeds Si è parlato anche di un centrocampista Hazard Che alla fine, dopo la carriera sul campo È andato a fare il taxista a Londra Guidava uno di quei taxi Tipici taxi neri di Londra Quindi gran bel ricordi Ma come è finita la sua storia allo Swindon? Allora, a Ardile se ne va Va al Nottingham E a Lorenzo non è mai gran che è piaciuto Il sostituto Hodo Futuro manager dell'Inghilterra E quindi rientrerà in patria Dopo il suo periodo allo Swindon Rientra in patria al San Lorenzo inizialmente Ed è tutto per la storia di Néstor Lorenzo Lorenzo, la Colombia Non vedo l'ora di vedere la semifinale È veramente emozionante Da una parte abbiamo l'Uruguay L'Uruguay arriva come favorito A questo punto forse neanche più Però davvero per quello che ha espresso la Colombia finora Potenzialmente è una semifinale incredibile Fatemi sapere voi cosa ne pensate Se avete visto la Colombia Cosa ne pensate del loro gioco Se vi è piaciuto questo video Lasciatemi un like Iscrivetevi al canale E ci vediamo molto presto in un nuovo video Ciao Grazie 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 Grazie